Noi abbiamo incominciato inizialmente nel 2007 a riconvertire le vecchie vigne, quindi le vecchie vigne è il classico doc pinorese rosso dove abbiamo parte di Barbera, Neiretta, Chattu, Zavarenk, un po' di Nebbiolo, abbiamo incominciato a cambiare il tipo di potatura e se non altro, ahimè, si rivolteranno nella tomba i miei, sia mio nonno che mio padre, quando noi diradiamo la vigna perché diradiamo normalmente il 50% della produzione. Quindi si è cercato di fare della qualità. Dopo 20 anni che non usavamo più la solforatrice per lo zolfo, abbiamo ripreso a usare lo zolfo in polvere con la solforatrice e il rame. Siamo in conversione biologica, anche se noi diservanti abbiamo mai usato, però adesso siamo al terzo anno quindi possiamo poi anche andarlo a certificare sulla bottiglia. La scommessa era di provare a impiantare questi bianchi, quindi dal 2010 abbiamo cominciato a impiantare una vigna quindi di Riesling, Chardonnay e Pinot Nero. Quindi poi l'idea, la scommessa è stare a provare a fare le bollicine anche in questo contesto dove c'è pochissima esperienza per quel tipo di vinificazione. Io ero andato a visitare questa, una quindicina anni fa, quando mia figlia era piccola, ero andato a visitare questa miniera del talco, questo museo. Mi aveva un po' affascinato, essendo perché nella mia attività io sono anche un cavatore, quindi mi aveva affascinato questo ambiente della cava, del talco. Avevo notato che c'erano delle temperature molto interessanti, nel senso i 10 gradi costanti nella paola, diciamo 850 metri, nella gianna un po' prima. E allora abbiamo pensato perché non provare a affinare per la presa di spuma, portare a fare l'invecchiamento per la presa di spuma proprio in questo contesto. Tra i vini rossi c'è il Pinolese Doc Barbera, il Merlu. In questo caso qua è un Barbera del 2014, le vigne sono nel territorio di Campiglione Fenile, quindi una zona ventilata con un clima piuttosto fresco e ventilato. La vinificazione è una vinificazione classica, vinificazione in rosso, con una macerazione che si protrae lungo tutta la fermentazione, quindi circa 7 giorni, 10 giorni al massimo. Dopodiché avviene la fermentazione malolattica e finita la fermentazione alcolica malolattica, il vino va a riposare, va a evolvere queste botti da 20 ettolitri. Il Finisum è un Pinolese Doc Rosso, anche in questo caso qua 2014, è un blend di più vitigni già in vigneto, un vecchio vigneto di circa 40 anni. All'epoca non si facevano i vigneti monovarietali, quindi con una varietà soltanto, ma erano plurivarietali. Trovevamo moltissime varietà, dove le varietà classiche piontesi ovviamente le facevano da padrone, ma in più avevamo varietà delle vere chicche amperografiche, quindi troviamo soltanto nelle valate alpine e italiane e francesi. Questi sono ad esempio la Varengo, sono lo Chateuse, il Biquet, la Vanà, eccetera, eccetera, altre vitigni e bacca rossa. La vinificazione di questo Finisum è molto simile a quella di Barbera, quindi una vinificazione classica in rosso e anch'esso matura in queste botti da 20 ettolitri.